Abbiamo comprato la katana più forte di sempre, sì! Abbiamo comprato la katana dei curiscini! Non è una katana infocata, è una katana dei curiscini ed è fortissima! Ti uccido, ti uccido, ti uccido, ti uccido, ti uccido dei curiscini, ti uccido dei curiscini, ragazza mia, ti uccido! Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Ninja Masters! Sì, il precedente episodio mi è piaciuto veramente tantissimo, sono veramente felicissimo di ciò, infatti siamo in costrobilisi, Episodio, siamo sul tetto che stiamo imparando a fare i ninja, a fare i salti mortali, wow, fantastico, che cosa vuole questo? Cosa vuole? Io ti uccido, ti uccido, ti uccido, ti uccido, ti uccido, ti uccido! Siamo in questo nuovo fantastico bellissimo episodio, ci sono tanti ninja in questa modalità, siamo anche noi dei ninja, non siamo forti come questo ragazzo che c'ha una katana che mi sa che ha scioppato perché è troppo potente, perché non capisco, questo qua è un newbie ninja appena iniziato e pur c'ha già una spada potente, quindi andiamo a vedere giubito dove l'ha comprata questa spada perché se non sbaglio la spada che ha dove si trova, eccola qui, cioè guardate lui c'ha una spada che è a questo livello e ha passato tutte queste qui ed è appena iniziato, quindi non è così tanto forte, quindi anche io volevo avere una spada potentissima anche se ho appena iniziato, io pure sto a livello 5, lui secondo me sta ancora a livello 1, adesso andiamo subito in questo episodio a farci tante belle cose, facciamoci tante belle quest, come tipo iniziamo, tipo iniziamo con questa, andiamoci a dare tipo dei ninja dalla foglia e poi forse in questo episodio tipo passiamo una specie di portale, sì, passiamo il portale dell'autunno perché costa semplicemente 5.000 e così possiamo fare altre quest che ci danno forse più soldi e più esperienza, mamma mia guardate qua, siamo fortissimi, siamo fortissimi, abbiamo raggiunto anche il livello 6, chissà quando tipo cambieremo i vestiti, secondo me cambieremo i vestiti quando tipo raggiungeremo il livello 7 o qualcosa del genere, quindi cerchiamo di allenarci, cerchiamo di aumentare il nostro ninjutsu per poi venderlo e farci tanti soldi per poi andare a comprarci le uova, in questo episodio compriamo anche tante uova, giusto, i nostri pet, dove sono? Dobbiamo equipaggiarli perché si tolgono tutte le volte, ma che sta succedendo? Ma che cosa? Ma mi ha ucciso! Ma perché mi ha ucciso questo? Oh, mi stavo uccidendo, c'è il pvp on, è vero! Andiamo ad ucciderlo, andiamo ad ucciderlo, vieni qui, vieni qui, ti uccido, ti uccido, ti uccido, ti uccido, ti uccido! Facciamoci seguire, facciamoci seguire, facciamo pvp con questo ragazzino, questo ragazzino, questo ragazzino è alto 3 metri, come cazzo, non è un ragazzino! Vediamo, uccidiamolo subito, lui però c'ha la spada più potente, c'ha la spada più potente, guardate, cerchiamo di fare doppi salti mortali così tipo non capisce niente e possiamo ucciderlo, guarda, 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 non ci sta capendo proprio niente, lo stiamo confondendo con le arti oscure, lo stiamo confondendo con le arti oscure, guardate come sta scappando, sì! Sta scappando tantissimo, piccolino, tu mi hai ucciso quando io avevo l'inventario aperto, quindi adesso ti ammazzo io, schifoso, ti ucciso subito io, guarda, 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 non ce la può più fare, anche se c'ha la spada più potente, non può fare niente, l'abbiamo ucciso, sì! Abbiamo ucciso un maialino 21, ah ma è un iscritto secondo me, ciao maialino 21 se stai guardando questo video, a quanto pare deve essere un iscritto, per questo mi sta attaccando, perché mi ha riconosciuto! Però adesso facciamo una cosa, adesso facciamo una cosa, tipo disattiviamo il pvp, perché voglio concentrarmi a fare quale quest, così dopo possiamo passare il ponte, tipo passare quel portale, quel coso lì, e poi andare a fare altre cose interessanti, ma cosa è questo piccolino, cosa vuoi, piccolino, io ti ammazzo, ti ucciso, ti ucciso, ti ucciso, ti ucciso, ti ucciso, ti ucciso! Secondo me li abbiamo rubati il ninja ed era tipo molto 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 triste, vediamo di finire subito questa quest, ci mancano veramente tanti ninja dalla foglia da uccidere, apriamo tipo delle uova, cerchiamo di comprarci anche dei soldi con i robux, perché voglio vedere che spada potente esteticamente possiamo farci, perché ci sono troppe spade, sono tutte belle esteticamente, e ne voglio una che è bella e che luccica tantissimo! Se questa serie vi piace e vorreste vedere altri episodi di Ninja Masters, iscrivetevelo nei commenti, raggiungiamo i 3000 vi piace e iscrivetevi al canale premendo il tasto o non si iscriviti, così non vi perdete questa bellissima serie di Ninja Masters, iscrivetevelo nei commenti se volete la serie, se no io non posso saperlo per nessun motivo, e fate vedere questa nuova modalità che è appena uscita su Roblox ai vostri amici, che forse non la conoscono, abbiamo raggiunto il livello 7 e abbiamo completato la quest, adesso attorniamo subito indietro e poi vediamo che cosa possiamo comprarci con i robux, vediamo un po' di comprarci qualcosa con i robux, allora cominciamo subito qua tipo con le uova, no con i booster e ci compriamo tipo 50.000 di cash, quanto è che costa 50.000 di cash? Costerà, uh non costa tanto, pensavo costessero 400 robux e invece 280 robux, perfetto, li abbiamo comprati e adesso abbiamo 50.000 soldi, vendiamo anche i 6.700 ninjutsu che abbiamo fatto, boom, ci siamo fatti anche 3.380 euro, adesso per prima cosa ci apriamo le nuove uova, perché voglio le uova uncommon e voglio trovare qualche pet interessante, fantastico, abbiamo trovato un ninja di diamante, wow, fantastico, e poi golden ninja, un ninja dorato, comunque mi piace tantissimo questa modalità, è fatta molto bene, molto veloce, molto, cioè le uova si aprono anche velocemente, non perdi neanche tempo a guardare le uova che si aprono, perfetto, abbiamo trovato tipo due cose di smeraldo e altre cose così come diamanti o tipo quelli dorati, e hanno tipo un boost fantastico, oh cacchio, ho aperto per spaglio un altro pet, no no no, allontaniamoci, stiamo spendendo soldi a caso, allora adesso cerchiamo di equipaggiare subito questi, bellissimi ninja, e adesso siamo furtissimi, questi qua sono i nostri nuovi piccolini, sì! Siamo dei ninja veramente furtissimi, adesso uscidiamo proprio tutti, uscidiamo proprio tutti, abbiamo ancora 37.000 euro, e con questi 37.000 euro io non so cosa farci per adesso, però adesso li teniamo e vediamo un po' come potremmo usarli più avanti, ah giusto, è vero, comprarci una spada, è vero, ci dobbiamo comprare una spada, ma prima cosa qua ci compriamo prima l'accesso a questo coso qui, che se no poi mi dimentico, e avete visto, qua ci sono tipo, ci sono i ninja del legno, e questi ninja del legno hanno tipo una tunica, oh sono dei samurai, fantastico, hanno il casco da samurai, quindi questi sono molto 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 forti, e se tipo li uccidiamo tutti ci darà sicuramente tantissimi ninjutsu e tantissima esperienza, e potremmo già raggiungere tipo il livello 10 solo completando questa quest, uccidiamoli tutti subito, finiamo questa quest, e poi andiamo a vedere che spada possiamo comprarci con 32.000 euro, o anche di più, visto che adesso faremo tanti ninjutsu, faremo sicuramente anche tanti ninjutsu, anche, oh, anche colpendo a caso, oh, adesso sono un ninja molto esperto, sì, siamo ninja molto più esperti, e possiamo uccidere proprio tutti, 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 e possiamo uccidere tutto, sì, fantastico, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, aia, aia, che male, 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 oh, mamma mia, sto per morire, sto per morire, mi mancano ancora 6 ninja, questi qua sono molto molto forti, dobbiamo ricaricare la vita, due secondi, ma nel frattempo attacchiamo, attacchiamo, fantastico, l'abbiamo preso alle spalle, ma aspettate, se prendiamo le spalle ninja, li sciottiamo, sì, secondo me li sciottiamo subito, per questo certe volte ci girano, perché se tipo riesci a prendere di spalle, li sciotti in due secondi, perché non se l'aspettano, non se l'aspettano, dobbiamo essere quatti, 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 guardate, guardate, ci avviciniamo con calma, boom, boom, mamma mia, l'abbiamo sciottato, ma aspettate, ah no, questo qua è un ninja della terra, ecco perché l'abbiamo sciottato, non è un ninja fortissimo, ho capito, comunque siamo saliti di livello e abbiamo ricaricato la vita, per fortuna, perché se no, non sapevo come ricaricare la vita, perché ci vuole veramente tantissimo tempo per ricaricarsi, dai che ce la facciamo finalmente completare questa bella quest, e ci compriamo una bella spada luccicata, è come quel ragazzino di prima, quel bambino ninja che, tipo appena iniziato in questa modalità e aveva già una spada super super sciuppata, non ci posso credere, che cosa facciamo qua adesso, cosa facciamo, ok, ci mancano tipo due vd ninja, io adoro questa modalità, perché mi ricordo i tempi in cui giocavo a minecraft e si faceva tanto pvp per diventare forti e comprarsi le cose, mamma mia, quanto tempo, ed è fatta molto molto bene questa modalità, quindi ve la consiglio, ve la consiglio, è che cacchio, questo qua mi ha rubato tutto, mi ha rubato tutto, cerchiamo qua di andare da questo ninja, perché voglio vedere se raggiungiamo tipo il livello 9, vediamo un po', uh, quasi ha raggiunto il livello 9, abbiamo fatto 650 di esperienza, sono veramente veramente tantissimi, e adesso vendiamo 8700 ninja points, sì, 4360 dollari, 4360 euro, dollari, yen, rubli, tutti, tutte le monete, tutte, tutte le valute, chi se ne frega, sono comunque soldi, adesso cominciamo subito, allora vedete, se io tipo vado direttamente a comprare una che voglio, posso comprarlo, mi dice, no, devi comprare tutte quelle di prima, che poi non ha senso come cosa, se io posso permettermi una spada potente, perché non posso prenderla? secondo me è questo, mamma mia, oddio, l'abbiamo comprata, abbiamo comprato la katana più forte di sempre, sì, abbiamo comprato la katana dei curicini, non è una katana infocata, è una katana dei curicini, ed è fortissimo, ti uccido, ti uccido, ti uccido, ti uccido, ti uccido di curicini, ti uccido di curicini, ragazza mia, ti uccido, l'ho uccido di curicini, fantastico, abbiamo comprato questa bellissima katana, e adesso voglio testarla subito, però andiamo nell'altro mondo, perché in un altro mondo, secondo me facciamo molte più esperienze, molti più soldi, abbiamo comunque 10.000 euro rimanenti, cos'è che possiamo comprarci? Niente, dobbiamo tenerli fino a 45.000 euro, perché il prossimo portale da acquistare è quello da 45.000, adesso qui c'è qualcosa, aspettate, prendiamo tutte e due le quest, no, non possiamo, è vero, non possiamo, e poi quella della terra non la faccio, cioè quella della terra non la faccio perché non ci sono tanti ninja, ce n'è solo uno, e dovrei aspettare e perdere un po' di tempo, mamma mia, l'abbiamo sciottato, wow, è potentissima sta spada, oddio, ma sciotta in due secondi questi ninja, mi sento così fortissimo, oddio, ma sono fortissimo, cacchio, cioè guardate, sciotta in due secondi questa spada fantastica, mamma mia, a questo punto sapete che faccio? Mi sa che apro tipo altre uova con questi soldi che ho, però non penso di poter aprire qualche uovo che sia più potente o più raro dell'uncommon, perché quello prossimo mi sa che costava tipo 30.000, 45.000, costa veramente tantissimo, quindi non penso di potermelo permettere, guarda qua, mamma mia, salto mortale in avanti e attacco dall'alto, piu, wow, piu, 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 sono un pazzo, aspettate, a parte che faccio anche molti, molti più ninja, ninjutsu faccio, faccio molti più ninjutsu, avete visto? Prima con la spada precedente facevo 35 ninjutsu, con questa faccio 93 ninjutsu, mio dio, e poi se questa serie continuerà, se arrivate a 3.000 mi piace e vedo che questa serie vi sta piacendo e ci porto altri episodi, mi sa che mi comprerò anche un per due di esperienza e di soldi per fare ancora più soldi e più esperienza per farvi vedere già io che divento un ninja potentissimo, perché voglio farvi vedere oddio, abbiamo la tunica di diamante adesso, lo sapevo, perché voglio farvi vedere che sono diventato fortissimo, mi piace un casino sta cosa che cambiano i vestiti in base a quanto sei forte, siamo diventati dei ninja nella media, mamma mia che bello, mi piace, mi piace tantissimo sta cosa, chissà quando, quando arriveremo a livello 100 come saremo, saremo tutta, avremo tutta un'armatura luccicante che splende potentissima, non vedo l'ora, comunque tipo la questa lì l'ho già finita, ah ecco perché sono salito di livello, non me ne ero neanche accorto, infatti abbiamo fatto 14.000 ninjutsu e abbiamo 11.000 euro da poter spendere, e mi sa che dobbiamo spendere da qualche parte, adesso vediamo che uova possiamo comprarci, perché quasi quasi mi compro un bellissimo uovo, allora abbiamo 18.000 e vedete le uova rare costano 70.000, costano veramente troppo, costano il doppio di quel portale lì, e qua le uova epiche costano 450.000, non ci posso credere, poi ci sono le uova di prestigio che possiamo aprire ma costano veramente troppo, ci sono anche i portali di prestigio che possiamo aprire, comunque non possiamo fare proprio niente perché qua costa tutto tantissimo. Spero che questo episodio di Ninja Master, se vi sia piaciuto raggiungiamo i 3.000 mi piace per un prossimo video, iscrivetevi al canale premendo il tasto su iscriviti e ci vediamo a un prossimo episodio, ciao ciao!